Ciao gente, benvenuti ad un nuovo unbox di Joypad. Io sono Dave in vostra compagnia quest'oggi, voglio scoprire se è vero che nella botte piccola c'è il vino buono. Che cos'è? Scopriamolo assieme con la telecamera che sta là sopra. Allora, è una semplice busta che contiene però l'ultima fatica dei bravi ingegneri di Samsung per quanto riguarda lo storage NVMe. Trattasi del 970 EVO drive NVMe in formato M.2 2280, l'ultima fatica, dicevo, delle brave personcine di Samsung che continuano a spingere praticamente a cadenza annuale nel comparto storage per PC ad alta velocità. Scopriamo un po' cosa c'è qua dentro. Beh, c'è semplicemente un SSD e poi velocemente parliamo delle specifiche. Allora, vedo che il design non è cambiato rispetto alle ultime produzioni di Samsung, oramai il design è consolidato. Eccoci qua. Oh, interessante. E la scatoletta si presenta forse in un modo leggermente più curato rispetto al passato con un case un po' più robusto e il drive. Eccolo qua. Ovviamente, essendo una periferica destinata all'utilizzo interno in un PC, non è particolarmente sexy da vedere, ma sexy sono le sue specifiche tecniche. Come ho già detto, è un drive NVMe 1.3, basato quindi su PCIe Gen 3.0 A4, per il controller è il Samsung Phoenix e la storage memory è una VNAND a 32 bit MLC. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che usa le ultime tecnologie del costruttore coreano. Parliamo un po' di velocità perché è quello che conta quando si parla di drive di questo tipo. Questo, che è il modello da 1 TB, può arrivare a letture sequenziali fino a 3400 MB al secondo e scritture sequenziali fino a 2500 MB al secondo. Perché dico questo drive? Perché, essendo disponibile in diverse taglie, anche le velocità di lettura e scrittura, sia sequenziali che random, varino leggermente da un modello all'altro. Più andiamo verso l'alto con la capacità e più questi dati saranno maggiori. Per quanto riguarda le letture random, QD32, sono fino a 500.000 IOPs, mentre le scritture, QD32 4KB, 450.000 IOPs. Interessante il consumo di questi drive. In media sono 6 Watt, 10 Watt in modalità Burst. Per quanto riguarda i consumi a riposo, in idle sono 30 mW e in sleep 5 mW. Valori importanti non tanto per un utilizzo all'interno di un PC desktop, ma piuttosto per un utilizzo portatile, quindi in un laptop di ultima generazione. Per finire, la durata. Il modello da 1000 GB o 1 TB è garantito per 5 anni o per 600 TBW, ovvero TB Ritter. Quindi per 600 TB potete scriverci senza problemi. E ovviamente la speranza è che possiate continuare ancora a lungo, ma la garanzia è per 600 TB. Non ho molto altro da dire riguardo questo 970 EVO di Samsung, se non che esiste anche il modello Pro. Il modello Pro ha un endurance più alta ed è su questo dato in particolare che Samsung differenzia le sue gambe e i prezzi, che comunque non sono proprio bruscolini. Ne abbiamo discusso tra l'altro nella recensione del modello 960 EVO e 970 Pro, le controparti SATA 3, tra l'altro uscite neanche troppo tempo fa, di cui trovate sicuramente qualcosa su Joypad, se sapete cercare bene. Ma per ora è tutto, per ora è tutto. Ovviamente vi do l'appuntamento alla recensione su Joypad.ch, in cui andremo a testare a fondo questo drive, specialmente anche contro i suoi predecessori, perché ci dà una misura di a che punto siamo. Da Dave è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao!